E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di DeepinCrimini, io sono Palla e il nostro amico Giacomo Bozzoli, scusate per la pronuncia sbagliata nella scorsa puntata, sono andato live, quando si va live dovete sapere che ci si emoziona e quindi ogni tanto si dicono delle stupidate, io ho detto per tutta la puntata Bozzoli, invece è Bozzoli, e quindi scusate, spero che possiate perdonarmi, in tutto ciò vi devo ringraziare perché innanzitutto è stato appena arrestato tipo due ore fa e quindi speriamo che questa puntata vada in top trend su YouTube, no più che su YouTube su Spotify e che diventiamo il primo podcast almeno per un'ora domani, sarebbe molto figo, in tutto ciò io vi devo ringraziare perché questa settimana ci avete fatto un sacco di donazioni perché appunto Zap si è laureato e avevo chiesto appunto di fargli gli auguri e più che le donazioni ci avete scritto in tantissimi, gli avete scritto in tantissimi e lui era molto contento e vi ringrazia e quindi grazie mille per averci iscritto, vi ricordo come sempre che se volete supportarci potete farlo in un modo assolutamente gratuito e assolutamente veloce, iscrivendomi sul canale YouTube, siamo a 5600 sarebbe figo arrivare a 6000 prima di agosto, potete seguirci su Instagram dove sto pubblicando e stiamo pubblicando sempre di più sia Reel che gli aggiornamenti sui casi e tutto quanto, quindi stiamo pubblicando sempre di più anche su Instagram, quindi seguiteci, e soprattutto dovete, questo dovete farlo, non è che vi chiedo, dovete mettere una recensione su Spotify, quindi valutare lo show su Spotify con le 5 stelline e su Apple Podcast lasciare una bella recensione, non vi costa nulla, è assolutamente gratuito, ci ascoltate ogni mese, più di 100.000 persone ci ascoltano, se il 10% lasciasse una recensione noi faremmo questo di lavoro, ecco, lo dico, senza nessuna vergogna, quindi vi chiedo davvero, so che dite, vabbè ma tanto se lascio una recensione in più io, è come il voto, no? Tanto se voto io non cambia niente, cambia davvero, perché bastano tre recensioni in più al giorno e davvero diventa un lavoro, e quindi alzo il volume, no? Il volume è al massimo, e quindi, alzo la voce magari, e quindi davvero lasciateci una recensione, non vi costa davvero niente, non c'è il trucco, ma ci fa semplicemente apparire più in alto in classifica e quindi, che non è un vezzo di là, sono 160esimo al posto di 159esimo, è un discorso di, ci trovano più persone, più persone ci ascoltano, e è un circolo vizioso, quindi davvero, vi costa un minuto della vostra vita, ma vorrei che capiate l'impatto che ha sulla nostra di vita, e quindi davvero, vi chiedo, so che sono pesanti, tutti i content creator sono pesanti su questa cosa, e me ne sono accorto anch'io da content creator, quante recensioni in più sto mettendo negli anni, vi costa nulla, ripeto, ci ascoltano 100.000 persone al mese, se riusciamo a che il 10% metta una recensione una volta, che poi lo fate una volta e non lo fate più, davvero, noi siamo a posto, e non me lo chiedo mai più, quindi grazie per chi ci impiegherà 10 secondi a mettere una recensione. Detto ciò, partiamo con una puntata molto importante, molto interessante. Allora, Giacomo Bozzoli è stato arrestato, dopo che era stato fuggitivo in Spagna per qualche giorno, qualche settimana, dopo che appunto era stato condannato in via definitiva all'ergastolo e non si era consegnato, poi parleremo in una prossima puntata, se è giusto o non è giusto, questa roba dovevano i giudici, dovevano farlo, adesso vi dico la verità, non mi interessa. Io, domenica, vi avevo iniziato a introdurre questo caso e non vi avevo nascosto la complessità di questo caso, perché non è un caso, secondo me, che i media hanno dipinto correttamente, cioè l'hanno reso, secondo me, l'hanno un po' semplificato, l'hanno un po' anacquato, l'hanno un po' ammorbidito. Faccio un esempio del caso di Yara, visto che sta per uscire appunto la puntata, il documentario di Bossetti su Netflix, scrive un caso che invece è stato dipinto nella maniera corretta dei media dal punto di vista della complessità del caso, no? Ignoto uno non si trova, ci sono pochi indizi, il DNA, la ricerca e tutto quanto. Mentre questo caso sembra, no? I due parenti che si stanno sui coglioni, ci sono di mezzo dei soldi e uno ammazza l'altro. Ecco, in realtà, certo che la struttura narrativa è quella, ma è molto più complesso di così. E quindi voglio farvi capire bene questo discorso. In più c'è un discorso che è quello che a me intriga moltissimo, vi dico la verità, cioè che dentro, noi stiamo parlando di un caso che si è al 99,9% generato e sviluppato all'interno di una ditta, e all'interno di questo capannone, quella sera, come vi dicevo l'altro appunto domenica, c'erano soltanto cinque persone, perché c'erano appunto Giuseppe Ghirardini, che era il responsabile del Forno Grande, che si suiciderà poi una settimana dopo il delitto, c'era soltanto Oscar Maggi, i due fratelli e Abu, no? L'altro operaio. Quindi abbiamo cinque persone sostanzialmente che erano lì al, più ovviamente Mario, la vittima, quindi che erano lì al momento, no? Della dipartita purtroppo definitiva di Mario. Quindi è un caso un po', se volete, come la classica casa all'interno di cui si genera, no? Si sviluppa o si consuma un delitto e poi chiaramente i vari abitanti della casa sono indagati, no? E qua si genera più o meno la stessa cosa. È un caso molto complesso, io poi spero domenica di riuscire a fare una puntata un po' tecnica su un paio di aspetti, anzi un po' più di un paio, dove poi inizieremo a introdurre anche le ricostruzioni, perché secondo me anche lì non è così banale, perché c'è tutto un discorso molto problematico sui tempi, le tempistiche in questo caso sono secondo me fondamentali, ma sono molto nebulose anche sulla sentenza. C'è tutto un discorso che dovremmo fare molto corposo sul forno, sulla fornace che avrebbe, uso il condizionale, inghiottito e purtroppo carbonizzato, Mario. C'è tutto un discorso da fare su chi poteva non sapere, il piano, l'architettura, su tutta una cosa. Quindi è un caso difficile. Perché è un caso difficile? Perché è un caso indiziario? Questo non lo dico io, lo dice la sentenza che a un certo punto appunto parla proprio, definisce questo caso, questo delitto come caso indiziario. Quindi basato su indizi e non su prove sostanzialmente. Perché poi se noi andiamo a vedere, e questo io vi dico la verità, non ho ancora un'opinione ben definita. Io vedo che contro Giacomo c'è tutta una serie, c'è una lista abbastanza, che adesso andiamo ad analizzare punto per punto, sapete che a me piace essere molto schematico e molto chiaro, no? Nelle varie, diciamo, ricostruzioni. Contro Giacomo ci sono tutta una serie di indizi che, a mio parere, potrebbero essere tranquillamente trasferiti al fratello Alex, così come trasferiti al Ghirardini, cioè l'operario che poi si è suicidato per i sensi di colpa. Cioè, io faccio fatica a vedere Giacomo come unico colpevole, come unico responsabile, come colui che ha immaginato, ideato, pianificato, realizzato questo omicidio. Io credo che la faccina sia molto più complessa di così. Ma andiamo con ordine. Perché Giacomo Bozzoli viene arrestato, condannato all'ergastolo? Questo è il punto fondamentale, no? Io parto dicendo che sono fermamente convinto della colpevolezza di Giacomo. Colpevolezza cosa intendo? Che Giacomo sappia benissimo che fine ha fatto lo zio. Quello che non so è come ha o hanno fatto e non so ancora adesso quanto la partecipazione di Giuseppe, Alex o Oscar possa aver influito all'interno di questo piano. Allora, partiamo dai primi elementi, secondo la sentenza, quindi secondo gli inquirenti, che sarebbero fondamentali nell'accusare e nel poi condannare Giacomo. Il primo elemento fondamentale è la non presenza nelle videocamere, nelle telecamere di sicurezza dell'uscita dal capannone di Mario. Noi vediamo chiaramente tutta la giornata, vediamo Mario che entra e che parcheggia il suo SUV appunto nel retro della ditta. Vediamo più volte che entra e esce, vediamo tutta una serie di cose, ma nell'orario, vi ricordo che alle 20 e 13, scusate alle 19 e 13, mette giù con la moglie al telefono dicendole appunto che era leggermente in ritardo ma che adesso stava andando a cambiarsi e che sarebbe poi venuto, arrivato a casa per portarla fuori a cena. Quindi noi abbiamo un orario preciso in cui noi sappiamo che Mario era ancora vivo ed era ancora tra l'altro in salute, non aveva, non era allarmato, non era preoccupato, non c'era niente che lo stava appunto affliggendo. Quindi noi sappiamo che alle 19 e 13 dell'8 ottobre del 2015 Mario sta bene, mette giù il telefono, ma da lì in poi sostanzialmente sparisce. Come vi dicevo, quindi non c'è traccia di un'ossio uscita, tutto l'autopsia psicologica che viene fatta sulla vita di Mario è negativa, cioè non c'è nessun motivo valido nonostante qualcuno, qualcuno Giacomo, suggerisca l'ipotesi a un certo punto di una possibile amante, mai dimostrato in alcun modo, infatti poi anche gli stessi avvocati difensori di Giacomo hanno un po' mollato da questo punto di vista, ma in generale il punto secondo me fondamentale è che non esiste nessuna ragione, non esisteva nessuna ragione che avrebbe giustificato, spiegato l'allontanamento volontario di Mario dalla sua vita. Come vi dicevo l'altra volta, non aveva problemi economici, non c'erano problemi familiari, era molto felice della sua vita ed era, come dice benissimo la sentenza, era proiettato all'avvenire dei figli. Questa sentenza è scritta in una maniera bellissima, io vi invito a leggerla perché sembra sembra davvero un romanzo, era proiettato all'avvenire dei figli, bellissima espressione di questa sentenza. E quindi giustamente gli inquirenti dicono 2 più 2 fa 4, cioè non abbiamo prove del fatto che lui sia effettivamente uscito da questa ditta. Ce lo dicono le telecamere e soprattutto ce lo dice anche l'assenza di testimoni che lo vedono uscire, perché nessun operaio lo vede fuori e nessun'altra persona lo vede testimonia la presenza di Mario fuori. È vero che in sentenza vengono riportati degli avvistamenti postumi, evidentemente rispetto all'8 ottobre, ma che poi si sono rivelati infondati. Quindi il fatto che non è stato visto da delle telecamere, non aveva motivo di allontanarsi e di sparire volontariamente, e l'assenza di testimoni credibili e affidabili che lo piazzassero fuori dalla ditta, appunto dopo le 19 e 15, ma in generale dopo l'8 di sera, fanno sì che ci si concentri su una tragedia avvenuta all'interno della ditta. E quindi all'interno della ditta dobbiamo per forza circoscrivere a Giacomo e Alex, perché lo fa la stessa sentenza, che spesso li mette insieme. Poi c'è un focus principale su Giacomo, che adesso cercheremo di spiegare. Sul Movente ci torniamo dopo, perché l'avevo già introdotto settimana scorsa. Io avrei ancora un paio di cose da dire sul Movente, perché secondo me è molto molto interessante. Anche lì poi, magari nella prossima puntata che è un po' più tecnica, vi andrò a spiegare un po' meglio tutte le dinamiche societarie. Su Giacomo, come vi dicevo, non ci sono certezze, ci sono tanti indizi, tante cose strane. Partiamo da quelli un po' più tenui, secondo me quelli un po' più leggeri. Per esempio, si scopre che Giacomo aveva, girava con, aveva più di nove SIM del cellulare, con cui, spesso intestate, tra l'altro persone che non sapevano di averla intestata, ad alcuni dipendenti della ditta, a persone anche non esattamente raccomandate, e questo, che non è, cioè è strano, ma chiaramente è un indizio molto vago, perché è interessante? Perché, in generale, sia da questo discorso delle varie SIM, sia dal discorso di alcune testimonianze che sono arrivate, non ultima quella di Jessica Tamborini, che è un'ex fidanzata chiave dell'accusa, ma poi su di lei ci sarà un capitolo di questa puntata, ma in generale, tutta una serie di testimonianze di persone che conoscevano Giacomo, ci testimoniano di alcune frequentazioni un po' malavitose, un po' proprio non esattamente dei chirichetti di Giacomo. Cioè Giacomo si accompagnava a persone che non erano esattamente dei Boy Scout. E questo vuol dire anche alcuni spacciatori, perché Giacomo si dice, almeno la sua ex dice, che era frequentemente, si dedicava, diciamo, all'aspirazione nasale di cocaina. Un paio di persone, c'è stato anche un processo che la famiglia Bozzoli ha dovuto affrontare, perché Giacomo, col papà Adelio, ma diciamo in prima persona, Giacomo è andato a minacciare una persona, poi ne parliamo magari meglio dopo, era andato a minacciare una persona che gli doveva 600.000 euro, una ditta che gli doveva 600.000 euro, c'erano delle difficoltà economiche, lui era andato con dei personaggi un po' diciamo poco raccomandabili, allora a questo punto questo imprenditore giustamente si è rivolto ai Carabinieri, da lì era nato tutto un discorso processuale. Però diciamo questo per dirvi che cosa, che alcune frequentazioni di Giacomo non erano esattamente troppo raccomandabili e questo ci fa comunque capire che il personaggio, ripeto, non era esattamente candidato alla santità. Discorso telecamere, secondo me questo è uno dei punti fondamentali. Vi avevo già detto che avevano cambiato nei mesi precedenti il software e le telecamere, la persona che aveva poi il tecnico diciamo che aveva sistemato le telecamere aveva dato le credenziali ad Alex e a Giacomo per appunto pilotare attraverso un joypad le telecamere e questo è importante perché le telecamere e poi soprattutto la telecamera dei forni e adesso vi vado a leggere anche un passaggio secondo me molto interessante, la telecamera dei forni era puntata nella parte sbagliata perché la telecamera dei forni perché la telecamera dei forni chiaramente avrebbe risolto immediatamente immediatamente il delitto. Vi leggo la sentenza perché secondo me è molto molto bello questo passaggio vi leggo la sentenza sul punto della telecamera che dice Salto un paragrafo e dice la telecamera posizionata al centro del capannone che avrebbe dovuto riprendere anche i forni quindi dove perché poi quando parliamo delle ricostruzioni diciamo che tutto l'impianto accusatorio gira intorno ai due forni soprattutto al forno grande quindi ripeto la telecamera posizionata al centro del capannone che avrebbe dovuto riprendere anche i forni in realtà riprendeva solo la parte opposta degli spogliatoi in tal modo non era stato possibile verificare la presenza di Mario sulla piattaforma piattaforma dei forni in cui avveniva la fusione dei cristalli dei metalli i filmati avevano tuttavia registrato una fumata anomala a dimostrazione del fatto che qualcosa gettato nel forno avesse prodotto vapore ok attenzione invece a questo passaggio che adesso vi leggo perché poi ve lo spiego ma fateci bene caso i carabinieri hanno accertato che il 13 ottobre 2015 quindi dopo la scomparsa quando i bozzoli avevano fatto installare un nuovo server al posto di quello nel frattempo sequestrato almeno tre telecamere erano state posizionate in maniera diversa rispetto alla sera della scomparsa di Mario si trattava singolarmente delle camere 3, 4 e 6 proprio quelle che avrebbero consentito di risolvere il rompicapo cioè cosa ci sta dicendo parto dall'ultima cosa che sembra più interessante allora la ditta viene sequestrata sostanzialmente cioè le telecamere della ditta vengono sequestrate quindi Adelio diciamo la famiglia Bozzoli nella figura di Adelio dei figli mettono delle nuove telecamere e le nuove telecamere precisamente come dice la sentenza la 3, la 4 e la 6 vengono posizionate in una maniera diversa rispetto a come erano posizionate qualche giorno prima cinque giorni prima per esattezza quando è scomparso Mario questo perché è interessante perché gli inquirenti da subito si rendono conto che il posizionamento delle telecamere di quella sera è molto strano perché soprattutto le telecamere che avrebbero dovuto inquadrare i forni quindi dove verosimilmente possibilmente era stato inserito o si era lanciato aveva tentato il suicidio o era stato inserito Mario puntavano su luoghi strani chi aveva il controllo di queste telecamere come abbiamo già detto Alex e Giacomo quindi chiaramente questo nei confronti di Giacomo è un indizio fortissimo è un indizio pesantissimo come un macigno è ovvio che è un indizio perché noi non abbiamo la dimostrazione che lui le ha spostate tre ore prima questo non possiamo sapere quando le ha spostate chi le ha spostate perché le ha spostate attenzione che la difesa e lo stesso Giacomo ha provato a dare una spiegazione a questo dicendo sì che aveva spostato rispetto alla posizione di default di quando erano state diciamo installate le telecamere cioè sì che lui e il fratello avevano spostato le telecamere ma avevano spostato le telecamere verso questi luoghi su indicazione di Mario cioè capite cosa dice Giacomo cioè Giacomo dice ma no è stato mio zio che voi mi accusate di aver ucciso a dirmi di spostare le telecamere verso quei luoghi perché aveva paura Mario che i dipendenti gli operai rubassero del materiale e quindi voleva inquadrare gli spogliatoi voleva inquadrare questo discarica diciamo questo luogo in cui si accumulava il rame che all'apparenza dice Giacomo a voi possono sembrare dei luoghi di poco interesse di scarso interesse in realtà erano dei luoghi cruciali fondamentali dice Giacomo ripeto perché appunto lo stesso zio puntava in quella direzione ora qua c'è un rovesciamento da parte di Giacomo della realtà perché la realtà non è questa la realtà che hanno ricostruito la realtà giudiziale ricostruita a cui io tendo a credere perché c'è una logica che adesso vi espongo dietro questa ricostruzione innanzitutto tutto quello che noi sappiamo postumo di Mario era il contrario cioè Mario era sì preoccupato che qualcuno stesse facendo un po' lo zanza in ditta stesse rubacchiando qua e là ma non erano gli operai erano proprio i familiari cioè erano Mario, Alex e Adeglio di cui lui aveva un po' timore e che teneva un po' sotto controllo perché avevano appena aperto una una fabbrica un capannone da un'altra parte quindi lui aveva paura che prendessero delle risorse della sua ditta e le utilizzassero nella loro nella altra loro ditta quindi lui sì che aveva paura che qualcuno rubasse ma non gli operai la stessa famiglia quindi in realtà il fatto che lui abbia fatto mettere quelle telecamere in quella posizione non torna in più i giudici dicono in maniera secondo me lapidaria che nella ditta che nella ditta non c'erano dei beni così preziosi da poter essere rubati che giustificassero il posizionamento delle telecamere rispetto al non inquadrare i forni cioè dicono anche qualora gli operai o qualsiasi altra persona avesse rubato qualcosa era comunque materiale oggetti di poco conto di poco valore questo è molto interessante secondo me a questo punto quindi discorso telecamere è concluso a questo punto ci sono tutta una serie di testimonianze in sentenza di persone adesso poi vi parlo di Jessica che è sicuramente quella più importante però ce ne sono tante altre adesso non le citiamo tutte ma Irene la moglie di Mario la sorella di Mario Adeglio che è convinta che è Vittoria che arriva subito ed è convinta a processo c'è un momento riportato in sentenza molto forte perché il presidente chiede alla sorella di Adeglio e di Mario lei è convinta che sia stato Giacomo e lei dice sì quindi la zia dice secondo me è stato Giacomo quindi molto molto forte questo passaggio comunque ci sono vari testimoni che raccontano di questi rapporti molto tesi tra zio e nipote i motivi ve li avevo già detti domenica visioni diverse su fare l'imprenditore su portare avanti l'azienda ma aggiungo un dettaglio secondo me importante che diciamo secondo me non mi sembra di aver riportato oltre alla visione diciamo del futuro dell'azienda cioè di produrre meno tone pregiato e produrre diciamo più materiali meno nobili metalli meno nobili ma più remunerativi quindi sia un discorso di imbastardire la produzione che Giacomo e Alex volevano fare perché volevano guadagnare più soldi banalmente mentre Mario era un uomo molto attaccato un uomo di una volta molto attaccato al suo lavoro lui voleva far quello lui era bravo a fare quello e voleva far quello oltre a questo aspetto molto interessante c'è un aspetto legato alle quote della Bozzoli SRL perché come vi dicevo settimana scorsa le quote erano divise al 50% 50% Mario e 50% Adeglio il problema qual era secondo la parte di famiglia di Adeglio che dato che i due figli di Mario avevano preso nella vita una strada terza cioè non erano non lavoravano in azienda uno faceva al dentista e l'altro adesso la mia madre non mi ricordo cosa faceva ma avevano dei lavori esterni non erano dipendenti della della Bozzoli SRL non secondo la famiglia la parte di famiglia di Adeglio non avrebbero avuto diritto alle quote e quindi c'era secondo loro uno uno sfasamento perché Adeglio aveva altri due figli quindi erano Adeglio Alex e Giacomo che avevano il 50% mentre dall'altra parte c'era soltanto Mario con il 50% e quindi secondo loro c'è un disequilibrio ora io capisco la logica di chi vuole di più soprattutto i due figli i due rampolli no? è pieno viene anche citata nella sentenza la Bibbia no? di chi senza merito desidera avere di più nella vita però in generale io non vedo niente di male in questa suddivisione cioè i due fondatori della ditta fratelli quindi comunque si suppone che abbiano un rapporto tale per cui non vogliono rubarsi a vicenda poi chiaramente le cose sono andate in maniera diversa hanno il 50% delle quote e poi cosa ognuno faccia col 50% ne dà una parte ai figli no non è interesse dell'altra parte della famiglia invece su questo aspetto della divisione delle quote è un passaggio molto molto importante perché è un passaggio molto importante perché a questo punto la presenza in vita di Mario per Giacomo è un doppio problema sia per un discorso di quote sia per un discorso di diversa visione futura della dell'azienda quindi abbiamo eliminando lo zio lui va a risolvere due problemi che dal suo punto di vista gli limitavano da una parte un discorso puramente economico dall'altra un discorso di sviluppo aziendale quindi lui vedeva lo zio come un gli aggettivi che vengono riportati dai testimoni sono ottuso erano scemo era solo un operaio non capiva un cazzo questi erano un po' gli aggettivi che venivano utilizzati in generale finché arriviamo alla signorina Jessica Tamborini Jessica Tamborini è uno dei personaggi chiave di questa vicenda che di solito non viene neanche mai citata per dire quanto i giornalisti approfondiscono le vicende ma è un personaggio fondamentale è un personaggio vi dico subito un po' adesso intanto vado a riprendermi i pezzi in cui viene in cui viene interrogata in cui viene citata anzi in sentenza perché è un punto secondo me fondamentale e la stessa sentenza ne parla in questi termini no cioè di eccezionalità allora chi è Jessica Tamborini Jessica Tamborini è la l'ex fidanzata di di Giacomo banalmente perché è interessante perché lei il giorno successivo il 9 orario di pranzo o il 9 o il 10 lui scompare l'8 sera non credo se 9 o 10 comunque uno o due giorni dopo la scomparsa di Mario scopre al telefono dalla mamma perché erano anni ovviamente che non era più fidanzata con Giacomo scopre dalla mamma che Adelio quindi il fratello è scomparso perché la mamma evidentemente le prime notizie non erano così chiare e la mamma al telefono dice guarda che Adelio è scomparso lei dice ma sei sicura che non è Mario che è scomparso ma è Adelio a quel punto la mamma fa un paio di chiamate la richiama e lei dice no guarda avevi ragione è Mario come facevi a saperlo lei dice no mamma così me lo sentiva lei mette giù il telefono e chiama i carabinieri chiama i carabinieri di Bergamo ovviamente questo è vero perché abbiamo la registrazione chiama i carabinieri e i carabinieri alle sei del pomeriggio l'ascoltano e lei racconta una storia racconta questa storia che vi dico subito ha delle ombre cioè ha degli aspetti poco chiari ha degli aspetti puramente inventati ma racconta più o meno questa storia lei è stata fidanzata con Giacomo per alcuni anni sono frequentati hanno avuto un rapporto anche a tratti molto bello poi chiaramente si è un po' deteriorato lei racconta di essere stata lei a terminare la redazione perché lui era violento e l'aveva mandato due volte in ospedale ma racconta di questo odio nei confronti dello zio di Giacomo e addirittura e riporta lei sostanzialmente le stesse parole le stesse frasi le stesse logiche che altri testimoni avevano portato e quindi diventa una testimone molto importante perché perché quando un testimone racconta un fatto che è stato raccontato da altri testimoni questo non è un qualcosa di poco conto perché se più testimoni raccontano lo stesso fatto chiaramente la testimonianza assume un valore molto più forte ma poi racconta una cosa inedita cioè racconta che Giacomo nel 2011 aveva architettato un piano quindi quattro anni prima della scomparsa di Mario aveva architettato aveva ideato pianificato un piano scusate la ripetizione per far fuori lo zio cioè lui aveva pensato di aspettare lo zio fuori casa e trascinarlo poi in questo boschetto che aveva che c'era di fianco a casa di Mario nello stesso momento lei doveva prendere la Mercedes di Giacomo e passare in autostrada col telepass in modo che il telepass lui in modo da creargli un alibi sostanzialmente lui invece sarebbe stato nel bosco tutta la notte a uccidere e poi a diciamo seppellire il cadavere e sarebbe girato nel bosco con degli stivali di due o tre misure più grandi proprio in modo da non destare sospetti il giorno dopo lui sarebbe andato in una cabina telefonica l'avrebbe chiamata e lei sarebbe andata a prenderlo e lei ovviamente poi avrebbe detto agli inquirenti che avevano passato la sera insieme che quindi lei era sostanzialmente il suo alibi di ferro quindi aveva pensato a tutto questo piano molto arzigogolato molto complesso ovviamente gli inquirenti sentono una cosa del genere e nelle settimane successive poi con il suicidio del Ghirardini in generale con tutta una serie di indizi nei confronti di Giacomo che si sommano le telecamere il movente tutto quanto chiaramente questo diventa un punto fondamentale problema il problema è quello che in sentenza viene anche qua secondo me con un termine favoloso c'è un capitolo della sentenza che si chiama Jessica Gambarini l'attendibilità frazionata e vi leggo l'incipit perché secondo me è molto utile la corte ritiene possa darsi per assodato che la Gambarini non abbia detto la verità a proposito degli atteggiamenti violenti di Giacomo quantomeno con riferimento agli episodi degli ingressi al pronto soccorso ed alle e alle scusate ed alle reali ragioni che hanno determinato la fine del legame sentimentale andrà tuttavia considerato che il discredito l'è in gran parte derivato dai componenti della cerchia domestica dell'imputato ossia da coloro che a propria volta sono stati considerati inattendibili per aver negato contro ogni evidenza la sussistenza dei pessimi rapporti tra Giacomo e Mario Bozzoli allora cosa succede lei mente clamorosamente quando fa questo racconto anche in aula su due aspetti l'aspetto dove Giacomo la picchiava perché magari la picchiava anche ma lei dice no due volte sono finita in pronto soccorso per questa cosa in realtà lei è finita soltanto una volta in pronto soccorso per un dolore allo stomaco lei dice di essere stata colpita da un calcio fortissimo allo stomaco in realtà nel referto non c'era nessun segno dopo una visita curata non c'era stato alcun segno di un trauma ma era soltanto una gastroenterite infatti era stata rilasciata subito dopo la seconda volta che lei diciamo dichiarava di essere finita in ospedale non c'era in realtà mai stata non c'era nessun referto non c'era niente anche sulla anche sulla fine della relazione c'erano altri testimoni tra cui per esempio la donna che aveva come dipendente questa Jessica Jessica lavorava in un parrucchie faceva la parrucchiera in un locale e anche la donna diceva no in realtà era stato Giacomo a porre fine alla relazione perché Jessica diciamo da questa da questa storia con questo giovane rampollo comunque di una famiglia ricca benestante si era un po' si era un po' diciamo fatta prendere no quindi borse firmate viaggi 5 stelle hotel ristoranti stellati già la bella vita ne aveva un po' presa la bella vita e lui si era un po' stufato e vabbè adesso i dettagli non li so perché non c'ero e quindi detto questo è ma la sentenza però dice una cosa interessante perché dice su alcuni aspetti per questo che è l'attendibilità frazionata perché su alcuni aspetti mente no cioè su alcuni aspetti c'è un'evidente mancanza di verità perché dice delle cose che dice solo lei e tutti gli altri smentiscono ma su altri aspetti in realtà è abbastanza attendibile per esempio su l'odio nei confronti dello zio cioè su questo desiderio che aveva Mario Giacomo di uccidere Mario su questa cosa viene creduta perché perché non riporta una cosa completamente fuori dalla logica riporta una cosa che come dicevo prima viene in realtà corroborata da tanti altri testimoni e quindi i giudici secondo me prendendosi un rischio prendendosi una responsabilità ma io dico io sono contento quando un giudice si prende una responsabilità perché è pagato per far quello è incaricato di un potere molto delicato per prendersi le responsabilità a costo di sbagliare ovviamente è quando il giudice non osa non rischia non si assume la responsabilità che escono i problemi nascono i problemi ma quando un giudice dopo un ragionamento e la sentenza è un ragionamento secondo me profondo è un ragionamento corposo dice su questi aspetti ha mentito ma su altri aspetti secondo me ha detto le cose giuste perché sono corroborate anche da altri testimoni e quindi risulta una testimonia credibile su quegli aspetti e su quegli aspetti però è fondamentale perché è fondamentale perché noi abbiamo e adesso ci sono altri aspetti che vi dico sostanzialmente una ragionevole certezza che Giacomo già dal 2011 stava ragionando consciamento inconsciamente seriamente o da un punto di vista della fantasia su sull'eliminare lo zio tra l'altro ci sono altri due operai che parlano già dal 2011 di qualche battuta di Giacomo c'è un operaio non devo il nome perché non è bello che un operaio africano che a un certo punto da mi sembra dall'Eritrea è al telefono con un suo collega e dice no perché Giacomo mi ha offerto 250 mila euro o 200-250 mila euro perché dice una volta 250 una volta 200 mila 250 mila euro per far fuori lo zio e l'altro gli dice al telefono ma per picchiarlo no no per farlo fuori e così faccio la bella vita qua al mio paese no qua in Eritrea così nimento capito poi lui ovviamente non è vero non l'ha detto così non sono prove e tutto quanto però sono due o tre testimonianze appunto e torno a ripetermi che ci fanno intuire che ci fosse comunque un pensiero bello attivo bello sveglio sulla possibilità reale effettiva di eliminare lo zio guarda caso poi quando avviene effettivamente questa sparizione così particolare dello zio ecco insomma 2 più 2 fa sempre 4 però qua siamo a 2 più 2 più 2 più 2 più 2 più 2 è il risultato purtroppo la matematica tende comunque a non essere un'opinione altri io sono in ritardo chiaramente ma questa posizione sarà un po' più lunga del solito magari quella di domenica la facciamo un po' più corta così compensiamo mi scuserete se volete abbandonarmi andate no beh chi ascolta dopo ha tutto il tempo chi è in live chi è in live ha tutto la mia stima se rimane in live comunque c'è sono altri due punti fondamentali poi magari chiudiamo qua e domenica aggiungiamo altri tasselli due punti fondamentali c'è una io l'ho nei miei appunti l'ho definita la strana retromarcia no di Giacomo che è un aspetto su cui io per esempio non sono particolarmente d'accordo con i con i giudici nel senso che a un certo punto alle 19.33 Giacomo lascia l'azienda ok il 19.33 per chi non ha scontrato bene la puntata precedente al 99.9% Mario è già morto è già stato aggredito e verosimilmente secondo l'accusa è già inserito dentro il forno grande a quel punto il 19.33 Giacomo è in macchina e esce dalla ditta e se ne va ma dieci minuti dopo poco prima di una rotonda adesso vi dico esattamente l'ora sono quasi certo che sia il 19.43 ma preferisco controllare il 19.43 esatto preferivo controllare per essere appunto preciso dopo aver tentato di chiamare il fratello Alex al telefono quindi immaginiamo la scena il 19.33 esce prende il suo Porsche Cayenne in bianco e esce inizia fa una chiamata dove chiama una persona con cui avrebbe avuto un appuntamento il giorno successivo e poi sta tornando verso casa a un certo punto dopo 6-7 minuti 19.37 chiama il fratello che non risponde al telefono a quel punto arriva davanti a una rotonda fa la rotonda torna indietro 19.43 torna indietro su delle telecamere della Beretta dell'azienda Beretta che inquadrano appunto questa scena torna indietro e a quel punto torna in azienda ora questo viene visto come l'indizio che ci fosse qualcosa di tormido in azienda io sono un po' combattuto su questo punto poi vi spiego perché però è interessante notare cosa che inizialmente né Alex né Oscar Maggi né Giuseppe quello che poi si è suicidato né Abu né Giacomo parlano di questo ritorno nessuno fa menzione di questo ritorno chiaramente poi gli inquirenti dicono guardate che ci sono telecamere che ti hanno visto entrare puoi uscire puoi rientrare perché sei rientrato e Giacomo darà una scusa che è un po' debole perché dirà dovevo dire dovevo chiedere a mio fratello il permesso di cambiare la produzione ed iniziare a fare il bral che dovrebbe essere bronzo alluminio quindi cambiare la produzione dall'ottone a bronzo alluminio tra l'altro io ho una chiamata in debito con uno di voi che mi ha scritto che è un ingegnere dei materiali domani ti chiamo te lo prometto tutto ciò doveva quindi parlare col fratello per mettersi d'accordo sul cambio di produzione a quel punto poi dice io vado da Oscar Maggi che era diciamo il responsabile di questo reparto per comunicargli il cambio di produzione da ottone a bral e fin qua uno dice vabbè ci può stare il problema qual è che nelle varie testimonianze sia di Alex che di Giacomo questa conversazione sarebbe avvenuta non quando lui è tornato ma tra le 19 e 20 circa e le 19 e 30 che è un momento cruciale poi quando faremo la puntata sugli orari precisi capirete meglio però adesso fidatevi di me perché è un momento cruciale perché è un momento in cui la fidanzata di Giacomo lo chiama quattro volte in dieci minuti e lui non risponde mai quindi evidentemente è indaffarato e lui dice sì stavo parlando con Alex mio fratello appunto di questo cambio e anche Alex diceva sì stavano parlando del cambio da ottone a bral e infatti poi i giudici dicono ma scusi perché è tornato indietro dopo perché lui ci sono tornato indietro per chiedere conferma a mio fratello di questa cosa e i giudici giustamente gli dicono ma perché è tornato indietro effettivamente fisicamente no e lui a quel punto dice capendo di essere un po' in difficoltà dice no perché volevo essere sicuro che ci fossimo capiti e poi volevo comunicare a Oscar Maggi appunto questo cambio e giustamente i giudici dicono ma scusi nel corso degli anni ci sono state 160 chiamate tra lei e Oscar Maggi quindi ci sono lei aveva il numero non poteva semplicemente chiamare Oscar Maggi e dirglielo e lì un po' si è arenata la situazione ora perché vi dico questo poi ne parleremo meglio quando faremo la puntata sugli orari il punto fondamentale è questo secondo l'accusa io non preferisco diciamo non esprimermi per adesso devo ancora pensarci bene su questo passaggio sicuramente un passaggio cruciale ma non so quanto peso accusatorio attribuirgli però in generale secondo l'accusa Giacomo torna indietro perché non riuscendo a parlare col fratello al telefono si allarma perché secondo l'accusa lui se ne va un po' anche per costruirsi un alibi ma evidentemente in azienda c'è del lavoro da fare sul cadavere perché attenzione che questo è il presupposto dei giudici cioè lui chiama e evidentemente non sentendo la risposta del fratello i giudici pensano chiama perché vuole chiedere al fratello tutto a posto perché sempre secondo la sentenza dieci minuti prima hanno ha anzi aggredito lo zio e messo dentro questo calderone questo forno di con un metallo bollente all'interno evidentemente tra l'altro il fratello secondo i giudici lo sa perché se lui chiama e si preoccupa che c'è qualcosa che è andato storto allora a quel punto no 2 più 2 ripeto fa sempre 4 quindi lui questo suo tornare in azienda è stato letto dai giudici come una prensione ingiustificata per qualcosa che potesse essere andato storto ok ci siamo io sì cioè sono d'accordo in generale da qui ad attribuirgli un valore accusatore molto forte vi dico la verità sono un po' sono un po' dubbioso non ve lo non ve lo nascondo ultimo passaggio secondo me fondamentale è il suicidio di di Giuseppe Ghirardini ne abbiamo già parlato Giuseppe Ghirardini era una delle persone presenti quella sera al momento della sparizione di Mario era il responsabile del forno grande che è il forno che la sentenza individua come il forno all'interno di cui è stato appunto depositato il corpo in vita o non in vita di di Mario ed è una persona che già dal giorno successivo le persone gli operai e in generale anche gli inquinamenti notano come un po' strano il giorno dopo lui non lavò chiede ad adeglio di non lavorare perché non se la sente i familiari lo sentono abbastanza un po' in difficoltà anche gli amici con cui va a caccia lo vedono un po' in difficoltà e una settimana dopo si suicida inghiottendo una pastiglia di veleni cianuo non cianuo di un veleno comunque tanto i familiari ancora oggi sostengono di Ghirardini che non sia stato un suicidio ma che sia stato un omicidio fatto passare per suicidio in realtà l'autopsia ha escluso che ci sia stato un diciamo un un inserimento un inserimento forzato della capsula ma sia stata invece un'ingestione volontaria detto ciò perché il Ghirardini è fondamentale non è fondamentale perché innanzitutto noi abbiamo una persona che quella sera deve aver visto qualcosa qualora fosse successo qualcosa che dopo una settimana si toglie la vita probabilmente perché è pieno di sensi di colpo e questo già è un dettaglio ma abbiamo dei dettagli in più perché a casa del Ghirardini vengono trovate otto banconote da 500 euro questo perché è interessante perché il Ghirardini aveva delle difficoltà economiche in quel periodo tra l'altro aveva il conto corrente in rosso aveva un'ex moglie e un figlio in Brasile che continuava a chiedergli soldi e quindi non erano giustificati nulla era nulla poteva giustificare la presenza di 4400 euro mi sembra che avesse in contanti in casa anche perché qualche giorno prima dell'omicidio lui ha fatto un prelievo di 250 euro mi sembra 250 250 euro normalmente al bancomat questo cosa vuol dire vuol dire che qualche giorno prima della scomparsa non aveva disponibilità di contante una settimana dopo a 4400 euro in contante in casa in banconote da 500 euro tra l'altro con un numero seriale molto simile quindi è stata come si dice non è perché c'era una spiegazione che la difesa ha provato a dare a queste banconote cioè ogni tanto l'azienda pagava gli straordinari agli operai in nero anche con banconote da 500 euro ma il seriale delle banconote trovate nella casa del Giardini era un seriale molto simile quindi era verosimile che fossero banconote consecutive non erano banconote prese un giorno da una parte un giorno dall'altra e quindi avevano dei seriali completamente diversi tra l'altro banconote che erano state date da una banca in Austria il Giardini non era mai stato in Austria e quindi si suppone che fosse la mazzetta la tangente il compenso che la famiglia diciamo che Giacomo avrebbe dato ai Giardini per qualcosa che secondo la sentenza avrebbe fatto che secondo me potrebbe anche semplicemente aver visto o aver deciso di ignorare la sentenza qua è molto chiara perché dice non è neanche possibile che possa avere soltanto visto perché il rimorso era talmente tanto il senso di colpa era talmente forte che deve aver per forza fatto qualcosa e quindi verosimilmente aiutato nell'inserimento secondo la sentenza di Mario all'interno della fornace queste sono le prove anzi direi più gli indizi che sono tanti precise concordanti questo mi sembra evidente però di questo si tratta non c'è materiale genetico poi faremo la prossima puntata sarà tutto quello che non torna ovviamente sapete come mi piace agire quando si hanno i documenti alla mano quindi prima si dice tutto quello che va contro il bossetti di turno lo stasi di turno il bozzoli di turno sì sì anche il magico poi sì sì ne parliamo ne parliamo sbardo e poi però parliamo anche di quello che non torna perché secondo me ci sono tante piccole cose che non fanno secondo me tanto presagire un'innocenza di Giacomo quanto però dei dubbi sulla versione ufficiale possono esserci questo questo sì io vi saluto e vi ringrazio di essere stati con me per 50 minuti spero di non avervi annoiato anzi di avervi fatto appassionare ancora di più a questo caso così così criptico così strano e vi rinnovo come sempre la richiesta di darci una mano e quindi di seguirci su Instagram su di iscrivervi al canale YouTube che è gratis e di e di lasciare una recensione su Spotify Apple Podcast perché davvero ci cambia la vita e e se avete piacere anche di offerci una cocazea o una birra trovate tutto in descrizione per appunto farci una piccola donazione che è sempre ben apprezzata e niente io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a domenica per una nuova puntata di Deep and Grip ciao a tutti